Adriano Mappalardo, ricominciamo ancora qui in diretta, ricominciamo con Eribi che ci porterà dove? E lo sapete... Gli eventi della settimana a cui non andrei! Buongiornissimo! Non sovrapponiamoci. Buongiorno Eribi, buongiorno. Buongiorno, stai bene? Si vede? Sì, sì. Sì, sì, come dire, quest'anno le influenze non ci abbandonano. No, no. Nessun tipo di influenza. Va bene, va bene. Guarda, ti porterò via poco tempo in realtà. Ma prendi tutto il tempo che serve. Ha un sacco di eventi. Vai, inizia. Allora, con quello vuoi che inizi? Quello dei nostri competitor? No, quello non voglio neanche sentire parlare. E invece io è il primo che ti dico. Allora, questo sabato, cioè domani e dopo domani, 8 e 9 giugno, al Parco Sempione ci sarà Party Like a DJ. Va beh. Va, io sono sempre sul ba, nel senso che troppa gente, troppe cose, non mi piace. Eh, fatti. Non mi piace, non ci fate. Va, giusto, 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 giusto. Ma non perché, cioè, ma a parte che non faccio nessuna festa, ormai l'avete capito. Sì, infatti, non vado da nessuna parte, quindi va bene così. Poi c'è uno invece di evento che sicuramente non piace a te. A cosa? È il grande concerto gratuito della Fina Armonica della Scala in Piazza del Duomo. Oh, ma no. Allora, la Fina Armonica della Scala quasi quasi glielo potrei concedere. Però no, in Piazza Duomo nessuno fa i concerti, lo sai. Soprattutto perché, vabbè, ingresso è gratuito chiaramente, ma immagino che ci si debba prenotare in qualche modo perché i posti sono contingentati. Però io spero sempre che regga il tempo, perché siamo sempre lì un pochettino. Comunque domani in Piazza del Duomo. Poi c'è... Sai qual è l'altra cosa che a me non piace in generale? Quale? Non mi piacciono i comici. Non mi piacciono i comici perché di base la comicità, diciamo, facile, è una cosa che non mi interessa. E quindi sabato 8, dalle 21 alle 23, c'è questo evento a Buccinasco in Via Lombardia che si chiama Il Grande Cabaret. Quindi il rullo di tamburi e quant'altro, ci sarà un sacco da ridere, ed è fatto da questo gruppo che si chiama Evento dei Poeti Erranti. E già qua mettiamo insieme anche i poeti che è un'altra di quelle cose. Poeti Erranti è l'attimo fuggente. Eh sì, molto probabilmente sì, e allora si chiama così. Va bene, va bene, va bene. Poi ti piace la musica elettronica? Sì. Ah, ok, perfetto. Perché ho scoperto esserci all'ex macello, che non sapevo neanche dove fosse, che è in Viale Molise, sabato dalle 18, c'è lo... Di fianco a Macao. Non sapevo fosse l'ex macello. C'è lo Zamna Festival, che a quanto ho capito è uno dei fenomeni elettronici mondiali più rilevanti degli ultimi periodi. Ah, hai capito. E noi non ne sapevamo niente. No. Pensa, come siamo fortunati. Gli ultimi due eventi che ti voglio raccontare sono due eventi in realtà che mi piacciono, ma ti spiegherò anche perché non vorrei andarci. Allora, il primo, cioè veramente una nota di merito a chi lo ha inventato, perché è la birra efficienza. Ok. Dalle 6, scusami, dal 6 al 9, cioè da ieri a domenica, dalle 19 alle 23, ci sarà a Trezzano sul Naviglio, in via Castaldi, questo festival dedicato alla birra. Mi hanno suggerito di portarsi l'autom, perché è una zona super verde. Chi te l'ha suggerito? Una persona che abita a Trezzano sul Naviglio, che ci va tutti gli anni, di portarsi l'autom, perché è una zona molto molto verde. Si chiama birra efficienza perché tutto il ricavato va a una PS che si chiama Gruppi FH, che sono volontariato per persone con disabilità cognitive e per le loro famiglie. Io ovviamente non c'andrei, non perché non mi piace fare volontariato, ma perché non amo la birra. Però mi hanno detto che c'è anche tantissima, ci sono tantissimi food truck e quindi si può anche mangiare bene. Tu c'è Andresti? Ma se c'è il food truck sì, perché no? Ok, ok. L'ultima mi è stata suggerita da Adriana, che solitamente insomma è una nostra fedele ascoltatrice. È la Strabassotti 2024. La Strabassotti? Sì, a Monza, domenica 9 giugno, fanno una marcia podistica non competitiva al Parco di Monza, appunto, con tutti i Bassotti. Oh mamma mia. Non ci andrei per il semplice fatto che i Bassotti non sono la mia razza preferita. Non ce l'hai neanche un Bassotto per andarci? No, e poi vabbè, non ci potrei andare appunto per il Bassotto, però potrei portare un cane finto, molto probabilmente. Un cane finto? Sì, un po' pazzino. Un cane finto di tua storia, un Bassotto, credo. Sì, sì, sì. Il cane finto di tua storia, il giocattolo è un Bassotto. Sì, sì, comunque si ci trova alle 8.30 davanti a Villa Mirabello, costa un botto, io ve lo dico, che il biglietto più caro costa 23 euro. Chiaramente vi danno anche da mangiare in quei 23 euro, però insomma 23 euro per fare la Strabassotti. Ok, sì, sì, sì. È bello. Però sono interessanti gli eventi questa settimana, devo dire. Sì, dai, sono belli, sono tanti, un po' diversi anche, la Strabassotti merita. Ah, però volevo aggiungere una roba, invece, un evento dove io andrò. Ah, dove vai? A votare. Ah, giusto, beh sì. Ricordatevi tutti che sabato 8, dalle 15 alle 23, se non mi sbaglio, e domenica dalle 7 alle 23, si vota. Quindi andate a votare. Sabato solo pomeriggio si vota. Sabato solo pomeriggio. Guarda come sono ferrata. Infatti, infatti, brava, brava, brava. Non conosco gente presidente di seggi, no, no, per nulla. Brava, brava, brava. L'Olanda sta già votando. Urca. Sì, mi hanno votato i seggi ieri. Che figata, votano così tanti giorni? No, forse votano solo ieri e oggi. Ah, ok. Non lo so, cioè, nel senso, no, no. Perché credo che tutti i paesi possono decidere in una settimana elettorale, diciamo. Ecco, no, ma comunque andate a votare perché è un nostro diritto, ma soprattutto è un nostro dovere. Ok. E quindi cerchiamo di combattere l'assenteismo che, diciamo, nell'ultimo periodo è sicuramente il nemico numero uno. Quindi, per la prima volta c'è un evento della settimana a cui Eri B andrebbe. Assolutamente, Sins 2001. Meno male, meno male, meno male. Ah, dal 2001 che voti? Eh sì. Ok, bene, bene, bene. Grazie mille Eri B, allora. Grazie mille a voi e buona giornata. A te, grazie. Andiamo con la musica dei Comacrose.